Federico Cruciata, credo che tu detieni una sorta di record, probabilmente l'unico alcamese, anche se le statistiche non ci sono in merito ad essere arrivato su Livirest, anche se ovviamente al campo base. 5.700 metri? No, 5.364 metri il campo base, invece siamo arrivati poi su una cima dal Calapattar, Montalavicino, sono 5.650. Quindi come statistiche non ce ne sono, però non so se sono l'unico o meno, comunque uno fra i primi sicuramente. Come nasce questa passione per l'aria aperta e soprattutto per le grandi altezze? La passione per l'aria aperta nasce negli scout, nel senso che fin da piccolo sono stato sempre nel gruppo scout Arcemo 2, super giovane, in età adolescenziale, iniziando a fare un po' di trekking sui percorsi di montagna, nasce la passione appunto per la montagna. L'Everist è una sfida che da giovane mi sono posto e finalmente sono riuscito a raggiungere l'obiettivo. In quanti eravate in questa spedizione? Eravamo in 11, tutti italiani, seguiti da tre scerpa, cioè tre abitanti del buco, ci facevamo da guida. Come si respira a quell'altezza? Ci sono grossi problemi perché l'ossigeno è troppo rarefatto? Sì esatto, una bella fatica, non è come camminare qui sul Monte Bonifate o sul Bonte Inici. A 5.000 metri l'aria manca, si nota perché ad ogni passo bisogna quasi fermarsi per riprendere fiato. Chiaramente non siete arrivati più su perché poi ci sono le pareti rocciose per arrivare a 8.000 metri, no? Sì, 8.000 metri poi diventa una spedizione alpinistica, cosa che in questo momento non sono in grado di fare, però lì c'erano le tende al campo base dove i vari alpinisti da tutto il mondo sostavano in questi mesi lì, proprio per aspettare il bel tempo e tentare la salita alla fine in vetta. Ovviamente lingua d'obbligo l'inglese? Ovvio, lo parlano tutti, anche i bambini appena nati si può dire che parlano inglese. Cosa ti ha insegnato questa esperienza dal punto di vista emozionale e del contatto con queste meraviglie? Dal punto di vista emozionale è stata un'esperienza toccante, sia per la visione di questi luoghi incontaminati. Infortunatamente hanno ripulito tutti i sentieri perché fino a poco tempo fa, dicevano, era invaso la spazzatura perché c'era molta inciviltà da parte degli alpinisti, invece ora, grazie a campagne di sensibilizzazione, sono stati puliti tutti i sentieri trekking, quindi completamente incontaminati, è ritornato tutto come una volta. Ci si rende anche conto come l'essere umano è piccolo rispetto a queste maestosità? Sì, diciamo che c'è una foto che ho scattato dove si vede il campo a base all'Everest, sembra tutto abbastanza vicino, ma poi quando ci rendiamo conto che dal campo a base alla cima ci sono circa 3.000 metri, ci rendiamo conto dell'immensità di questi luoghi. Prossima avventura? Tante le mete per ora in programma, vediamo dove buttarò ancora, non mi voglio sbilanciare.